Vorrei proprio dedicare due parole che ricordo alla figura di Fernando Gianesini che è scomparso dieci giorni fa, è stato un collaboratore fondamentale per la storia delle attività espositive e artistiche del credito vatellinese, ha fatto direi la prima parte epica ed eroica fino agli inizi degli anni 2000 e poi quando è andato in pensione è però rimasto collaboratore puntuale e fedele per le nostre attività. Grazie a tutti. 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 una novità e tornare alle radici. Un filo che la lega con Bruno Ritter lungo 30 anni. Sì, direi anche qualche annetto di più rispetto ai 30, una conoscenza che risale comunque a moltissimi anni fa quando Bruno risiedeva in quella sorta di mondo ultra o extraterreno che era la sua caneta e Bruno ha lavorato per molti anni all'interno di questo mondo lontano, sovrastato dalle montagne, assolutamente poco propenso alla luce del sole e all'interno di questo mondo sono maturate delle opere di particolare durezza espressiva.